Dobbiamo parlare di un bel po' di cose oggi, bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, video del lunedì, video sull'analisi tecnica ciclica dei mercati del crypto e video sulle aggiornamenti delle news, ragazzi questi sono i vari articoli che andremo a vedere anche oggi, ce n'è uno di Cointelegraph che mi piace tantissimo, 5 cose da sapere su Bitcoin questa settimana, crollo o non crollo, c'è un po' la diatriba sulla questione del rally di Natale che da un po' di giorni sta girando in tutto il mondo crypto a livello anche internazionale, poi ci sono questi dati da andare a guardare, in particolar modo questa settimana c'è solo un dato che mi interessa tantissimo perché è il dato che ritengo quello più importante da andare ad analizzare e vi spiego anche perché, ci sono poi altre news e ovviamente quelli che sono i grafici che vi faccio vedere, questo che è il grafico che guarderemo alla fine di questo video perché analizzerà quel che è un caso storico di Bitcoin insieme alla sua media mobile a 200 periodi, la media che poi utilizzano gli istituzionali teoricamente per posizionarsi sui mercati. Insomma, un bel po' di contenuti anche in questo update del lunedì come sempre facciamo ragazzi e prima di andare avanti vi chiedo ovviamente di iscrivervi al canale se ancora avete fatto, soprattutto lasciatemi i pollici perché in questa fase di YouTube sono molto importanti e poi mi date una mano. Allora, io inizierei intanto dal news principale che in queste ultime settimane si stanno rincorrendo sui mercati delle crypto sono due, la questione della, tracciando diciamo la questione di FTX che Sam apparirà davanti al congresso sembrerebbe, molti si chiedono perché Sam non è ancora in galera bla bla bla, perché per fare questa cosa bisogna dimostrare che lui abbia infranto delle leggi. In questo caso bisognerà vedere la giurisdizione di appartenenza, quindi credo che le Bahamas se prevedeva una cosa del genere o meno e tutto il resto. Quindi secondo me il giochino ci vorrà ancora per sbrogliare la matassa. Nell'ultima intervista si è dimostrato estremamente confuso, sembra comunque una persona che ha perso qualche neurone di troppo. C'è la questione del legame a doppio filo con la politica degli Stati Uniti, insomma è una partita ancora aperta ma in moltissimi hanno interessi che questa cosa venga portata avanti. C'è anche da dire che FTX Japan sembrerebbe che riapra ai prelievi. Io spero ancora che la piattaforma di FTX ritorni magari in operatività sotto altri proprietari magari o roba del genere in modo tale da poterla comunque utilizzare in termini di tecnologia. Resta ancora oggi una delle migliori piattaforme in termini di tecnologia, però anche gli altri exchanges si sono mossi in questa fase. Tant'è vero ragazzi che moltissimi stanno prendendo la strada della Proof of Reserve. Che male non fa. Proprio nella scorsa giornata è arrivata quella di BitGet. Sono contento ma lo sapevo già ve lo dico francamente perché avevo chiesto ovviamente se la Proof of Reserve era in tema per loro altrimenti avrei eliminato anche il test di questa exchange. Ma mi avevano già detto che sarebbe arrivata a brevissimo. Così come anche altre exchange stanno lavorando su questa tematica. Qui potete consultare tutta la questione legata alla Proof of Reserve di BitGet. Funziona o non funziona? Blah blah blah. Qui addirittura hanno un margine sui Bitcoin elevatissimo rispetto a quelli che sono gli asset degli utenti. Le riserve sono molto più alte dei Bitcoin. Lo stesso vale per dollari ed ETH. Bisognerebbe analizzarle in maniera estremamente approfondita questo Proof of Reserve. Vediamo se riusciamo a farlo. Ci vorrà sicuramente un informatico che capisce di blockchain e tutto il resto. Magari facciamo la super live se qualcuno si presta e analizziamo questa cosa dall'avvivo. In ogni caso gli exchange che stanno prendendo questa strada è un bene come vi dicevo ragazzi. Dalle grandi crisi poi arrivano anche le grandi opportunità in questo caso per il mercato cripto. È una grande opportunità per gli exchange perché sarebbe la prima volta che noi riusciamo a vedere in blockchain in maniera trasparente quelle che sono queste Proof of Reserve. E ve lo ripeto, ribadisco, tutto quello che volete. Questa cosa non esiste nel sistema finanziario classico e non è così trasparente e non è così semplice. Quindi questo punto secondo me è una cosa molto bella del settore delle cripto se venisse effettivamente sviscerata nel modo giusto. Perché sarebbe una vera differenza con il resto del sistema finanziario. Un passo avanti secondo me la precedente questione dei sistemi finanziari. Andiamo a vedere invece l'articolo che vi dicevo sul crollo imminente per le azioni e 5 cose da sapere sul bitcoin. Allora in pratica ragazzi ve lo riassumo, c'è una serie di analisi che vengono fatte su una serie di grafici. Sapete che io sono un deboli per i grafici ragazzi perché nel momento in cui analizziamo i grafici analizziamo dati oggettivi. Poi l'interpretazione è soggettiva però l'analisi è oggettiva almeno una cosa. Averla oggettiva è sempre buona. Quindi qua ci sono una serie di analisti che pubblicano delle cose, alcune sono utili, altre uno po' o meno. Vi metto anche il link nell'articolo e ve lo andate a spulciare. C'è la questione dei miner che hanno avuto la super gigantesca capitolazione. Non c'è alcuna tipologia di correlazione misurabile tra la capitolazione dei miners e i prezzi delle cripto. Io questo ve lo dico, poi ognuno di voi può avere la propria opinione. Fate le analisi di correlazione, vi renderete conto che non esiste una correlazione tale per cui noi possiamo utilizzare questa informazione. Però è sempre figo andarla a vedere questa roba qui. I miners hanno delle logiche particolari. Vedete l'ultima capitolazione era avvenuta ma a gennaio 2021 prima delle fasi di pump. Questa comunque è molto profonda. Ecco, sull'entità della capitolazione sicuramente è molto profonda. Sicuramente siamo arrivati ad un primo punto di stop del mercato. Cioè il bear market ha toccato il suo primo livello di prezzo e questo lo sapevamo che era intorno ai 16.000 qualcosa. E c'è arrivato, l'ha toccato ed è arrivato dove più o meno si pensava di andare. Poi c'è il secondo livello, quello 13.9 per alcuni che potrebbe essere toccato o meno. Ecco, lì iniziano un po' a esserci i punti interrogativi. Poi qui ci sono un'altra serie di grafici ma quello che è, ah questo qui ragazzi, quello del, i grafici legati, questo grafico legato al timing, che ve lo faccio vedere qui su. L'abbiamo visto noi nel precedente video quando vi ho fatto un'analisi tempistica e quindi ciclica delle distanze fra Bitcoin, i massimi bear market e la lunghezza dei mercati. Quindi l'abbiamo fatto in una live, se non erro. Quello che mi interessava invece è andare a vedere oggi la distanza tra i prezzi di Bitcoin e la media mobile a 200 periodi. Vi farò vedere quello che è una decelerazione della fase ribassista di Bitcoin che ci sta e a tutti gli effetti. Ma prima di andare a vedere l'ultimo grafico, che è quello lì ragazzi, andiamo anche a vedere poi una serie di dati che sono quelli che usciranno in questa settimana, come vi avevo promesso. Poi facciamo la ciclica velocissima su Bitcoin perché non è cambiato granché. E Nasdaq la vediamo perché su Nasdaq invece c'è una cosetta che può essere interessante. Allora questi sono i dati che hanno attesa questa settimana. Secondo me ragazzi, intanto l'ISM conferma ancora una volta il buono stato dell'economia americana. Tutto secondo quello che abbiamo già detto negli scorsi video, l'economia americana non ha subito nulla sul rialzo dei tassi di interesse, è fortissima. L'occupazione potrebbe diminuire poi nell'arco dei mesi finali, ma a quel punto l'inflazione potrebbe essere sotto controllo. Questa comunque sarebbe una vittoria perché a quel punto la Fed potrebbe comunque rifare l'eva sovra monetaria per controllare l'occupazione. Comunque ci sono tante cose su cui ragionare per l'occupazione degli Stati Uniti. In particolar modo i tassi attuali di interesse forse sono un po' altini rispetto al normale, ma sicuramente non sono altissimi ragazzi. Anche se si pensa che siano alti, ma in realtà non è così perché il mondo degli ultimi 10-15 anni era un'anomalia tecnica. Ecco perché avete detto le bull run del genere, i mercati hanno sempre ragione, seguiamo i trend, tanto si cresce sempre, compriamo bene. Perché quella è un'anomalia tecnica ragazzi, non avviene praticamente mai nel sistema economico una cosa del genere. E teoricamente per un sistema salutare non dovrebbe esserci. Quindi può essere che nei prossimi 20 anni noi andiamo a riavere gli atteggiamenti di un'economia più stabile, con tassi di interesse non a zero, ma positivi. E questo è un bene ragazzi, non è un male. È un bene per una serie di mercati, compreso anche quello per esempio delle banche eccetera. Questo è il dato invece che mi piace di più, che secondo me è il dato più importante andare a vedere. Cioè l'IPP, l'indice dei prezzi alla produzione, quanto pagano i beni i produttori. Perché da lì ragazzi che è arrivata poi l'infrazione, quella che ha causato il disastro. Vi faccio vedere la tabella dell'IPP degli ultimi mesi, degli ultimi 5 anni. A dire la verità, così vi rendete conto che cosa è successo. Vedete, dall'agosto del 2020 con l'immissione di liquidità post-covid. Guardate, tutti i dati positivi dell'indice dei prezzi alla produzione che salivano ogni mese. E di solito è così, non così ragazzi. Questo è una in pratica salita che ogni mese salivano. Ogni mese salivano fino a punte addirittura anche dell'1,6 sul precedente. Nell'aprile del 2022 hanno causato l'impernata dell'inflazione. Ora, da agosto del 2022 hanno iniziato ad essere o negativi o leggermente positivi. Quindi l'indice dei prezzi alla produzione è un indice che anticipa quello che sarà poi l'eventuale inflazione. Perché i prezzi dei produttori vengono spostati su quelli al consumo. Perché i produttori alzano i prezzi che quindi poi vengono alzati anche a sua volta dai venditori che li portano al consumatore finale. Quindi si crea infrazione da qui. Quindi se questi prezzi ritornano a seguire questo atteggiamento oscillatorio intorno allo zero o addirittura negativi, ragazzi, è un altro indice molto importante. Quindi secondo me l'IPP del mese di novembre non sconvolgerà i mercati perché secondo me i mercati ormai hanno capito l'iter di questo atteggiamento. Quindi ritorniamo anche in una nuova, di nuovo in una logica in cui le news non scioccano i mercati. Secondo me dopo quel breve periodo di quattro mesi che abbiamo avuto, che era invece molto importante. Però teniamole sotto controllo perché se dovesse esserci per esempio un'anomalia eccessiva, magari i prezzi della produzione che salgono troppo, quello sì, ragazzi, ok? Perché ancora siamo un po' in stallo. Però io ritengo che stiamo ritornando verso l'idea che i dati non siano così più scioccanti per i mercati. Si dice proprio così, ragazzi. Non è una terminologia che sto utilizzando in maniera impropria. È una terminologia economica. Si dice che appunto i dati o le banche centrali fanno shock sui mercati. Quindi scioccano i mercati. Si dice proprio così. Va bene, allora detto questo andiamo a vedere la ciclica di Bitcoin e poi vi mostro questo grafico qui che ci tengo molto a mostrarvelo per fare una serie di ragionamenti sulla media mobile a 200 periodi che utilizziamo non sempre ma è interessante da vedere. Intanto ciclica di Bitcoin mista quella di Ethereum, ragazzi, ecco qui avevo sbagliato grafico. Allora mista quella di Atimo perché c'è un'anomalia e poi vediamo Nasdaq perché anche Nasdaq sta facendo un'indicazione. Allora questa candela di Bitcoin se chiude così oggi non è buona, però è anche vero che questa fase di alzista è avvenuta durante la notte creando questa shadow e i mercati americani hanno chiuso già lunedì e quindi venivamo da un pub un po' così. C'è stato il tentativo di breccare questo livello di resistenza a 17,3 come vi dicevo e non ci è riuscito Bitcoin. Il successivo è questo, quello vero secondo me è questo, però già un posizionamento qui di una candela verde all'interno di questa fase è molto rilevante. Da un punto di vista di ciclica noi siamo ancora in una struttura ambivalente, cioè non abbiamo idea se il ciclo delzista di Bitcoin si è iniziato il 9 o il 21. Ora si è iniziato il 9 teoricamente ribassista, quindi ci sarebbe ancora la possibilità di fare una cosa del genere ragazzi, quindi pensate un po'. E siamo ancora con questa finestra aperta, quindi questa è la negazione totale del rally di Natale, quindi se fanno una cosa del genere, rally di Natale, ciao ciao, non c'è più. Però in linea di massima sembra poco probabile per una serie di motivi, intanto anche il superamento delle medie mobile a 21 e a 11 sul grafico daily è stato rilevante, al momento non è un'inversione di trend ma una lateralizzazione, ma sicuramente è meglio che starci sotto come nel caso precedente, perché? Perché queste due medie adesso pungono da livello di supporto per il mini trend di Bitcoin e ci può assolutamente stare. Ora nel momento in cui invece il ciclo mensile fosse iniziato il 21, che è la ipotesi quella rialzista, da qui in poi c'è ancora spazio perché non c'è nessuna indicazione che ci dice che questo mensile debba essere negativo, anzi teoricamente potrebbe tranquillamente essere rialzista, quindi se il mensile, il ciclo mensile di Bitcoin è iniziato qui potremmo tranquillamente fare questa cosa qui o addirittura anche andare più su con estrema semplicità. Poi anche questo lo vedremo tra poco. Per quelli che sono i miei dati e le mie analisi di pre-periodo, questa fase di bassista, teoricamente che stiamo vedendo oggi, fa parte di una chiusura di un ciclo minore che si chiama ciclo settimanale e teoricamente dovrebbe avere un semivincolo rialzista per cui nelle prossime giornate dovremmo riprendere a salire. Ora, questo è trading, ovviamente, quindi si basa su dati che vengono modificati ogni due giorni, ragazzi, quindi capite quello che vi sto dicendo, non vi venite a dire, pure per una settimana c'è, perché può essere che se quell'ipotesi non si verifica, ovviamente inverte tutto questo costrutto. Io ve lo dico perché è un'informazione in più, però sappiatela utilizzare perché non sono dati che possono essere utilizzati da chi non è addetto ai lavori, perché ci sono dei vincoli che ci indicano che dovremmo riprendere la zona rialzista tra poco, domani, dopo domani, però se nella giornata di oggi, per esempio, non vengono confermati quei dati con alcuni dettagli, allora cambia questo scenario. Perché è trading, parliamo di due o tre giorni, no ragazzi, quindi dovete capire un po' la differenza. Io ve lo dico lo stesso perché mi piace parlare chiaro con la mia, con i miei follower, che tra l'altro stanno diventando iper schillati, perché vi ho fatto un tweet oggi di un sondaggio sugli investitori e dire chi perde sui mercati perde per sfortuna o per mancanza di formazione e praticamente un plebiscito verso la mancanza di formazione, che non lo dico solo io, se imparate a leggere magari libri, libri, libri sull'ambito investing capite bene che chi perde sui mercati lo fa per carenza di informazione, però sfortuna c'è, ma gioco ruolo del 10%, non del 90%, quindi ricordatevi sempre questa cosa, formazione, formazione e conoscenza dei mercati vi dà la chiave per essere speculatori, non c'è nessuna differenza tra trader e investitore se non un atteggiamento da lungo periodo, quindi di periodo, ma la conoscenza è uguale, non potete avere una conoscenza che fa lacune nell'ambito dell'investimento o del trading e poi pensare di, diciamo, guadagnare. Quindi mi è piaciuto perché siete stati ipertop in questo sondaggio di Twitter, io lo faccio intanto per sondare, Nel bear market si vede proprio, no, la durezza dei follower e delle community che si vanno a generare e la mia è una community molto, molto fatta di trader professionisti e io sono contentissimo di questo, ragazzi, perché poi quando facciamo il contest, insomma, stravinciamo anche a livello europeo, quindi sono contentissimo di questa cosa qui. Però ogni tanto vado a testare questa cosa, quindi oggi ho sorriso quando ho guardato e ho detto guarda tu, 80% sanno rispondere in maniera top. Allora questa è la situazione del mercato di Bitcoin, andiamola a constatare anche su Ethereum che ovviamente confonde le acque, perché? Perché Ethereum ragazzi il giorno del 22 il minimo non l'ha fatto, quindi teoricamente il 21 e il 22 Ethereum il minimo non l'ha fatto, perciò se valutiamo questo concetto qui su Ethereum potremmo tranquillamente dire che questo tipo di ciclo mensile è iniziato il 9, quindi qui c'è proprio una differenza enorme e di nuovo i mercati ragazzi, vedete come stanno diventando più complessi. Ne parlavo l'altro giorno in una super intervista che abbiamo fatto con Enrico Malverti, il vicepresidente di Siatt Italia, la società italiana degli analisti tecnici, e parlavamo proprio di questo, di come i mercati delle cripto si stanno modificando e diventando più complessi, proprio dati alla mano perché lui ovviamente è un analista quantitativo, quindi aveva fatto una serie di analisi. È stata molto bella, vediamo se la riproponiamo. Però questa cosa ragazzi è da mettere in conto, quindi qui non abbiamo, vedete, non abbiamo informazioni. L'unica informazione su Ethereum per avere una chiarezza su questa struttura ciclica, se qui è iniziato il ciclo o qui, è il superamento con conferma in close di questa zona dei massimi, di questa candela verde, che stanno a 13,50. Quindi dobbiamo andare su 13,48, va, non cotto a niente, 2 dollari, dobbiamo andare qui. Se non andiamo qui, allora non abbiamo risposta. E ovviamente il mercato si è fermato qui sotto. Perché ragazzi? Perché è proprio quella la differenza. E vedete come si autoconfermano le visioni, i dati, con quello che è la realtà. Quindi è proprio così, cioè non è che c'è la previsione del futuro. C'è un'analisi di dati che ci dà un'indicazione, un vantaggio statistico, ma poi i mercati stessi devono attendere se stessi, no? Per vedere dove andare. Dove andare. Vabbè, allora questa è una cosa molto bella, filosofica, dei mercati. Andiamo a vedere Nasdaq, vi faccio vedere poi l'ultimo grafico che è interessantissimo, quello della media, di cui andiamo a discutere oggi. Allora, questa questione di Nasdaq, secondo me questi cicli di Nasdaq, ragazzi, sono, per esempio Nasdaq, vedete, è dal 13 di ottobre che sta facendo cicli diversi. Il 4 di novembre ha fatto un ciclo troppo piccolo per essere un ciclo mensile, questo qui, e poi il successivo che ha fatto questo minimo qui è un po' troppo lungo, secondo me, per essere invece un ciclo mensile. Ci può stare, assolutamente, ma io preferisco in questo caso andare a considerare due mensili insieme e quindi fare un'unica struttura da 55 barre o 80 giornate circa, è un po' lunga, questa qui l'ho messa a posto a fine anno perché ci saranno le vacanze di Natale, quindi i mercati magari sono chiusi un po' più tempo e dire, ok, questa struttura è fatta in questo modo, ha struttura di natura ternaria, così. Secondo me ha un po' più logica. Ora, se così fosse una roba del genere, questa zona potrebbe essere anche il massimo di questa struttura e questo indicherebbe che anche in questo caso la questione del rally di Natale finisce qui. Perché? Perché il rally ha questo vincolo qui temporale, ragazzi, 20 di dicembre. Siamo al 5 di dicembre, chiaro, ancora un po' di giorni ci sono, però iniziamo ad avere comunque poche settimane, pochi giorni per spingere questo rally di Natale e c'è stato, però è debole, è un rally debole che comunque non ho, cioè ci aspettavamo un pochino, no? Però magari un pochettino di forza in più sarebbe utile. Ora, poi c'è da dire che da questa struttura di Nasdaq cambiano mille cose, ragazzi, proprio mille, perché dalla prossima ripartenza del prossimo anno ci sono risposte notevoli se questa fase di bassista è terminata o no, perché se non è terminata si ritorna a scendere per metà almeno del prossimo anno e le cripto non credo che avranno vita facile, se così fosse, perciò sarà interessantissimo vedere nel 2023 questi grafici di Nasdaq e soprattutto seguirli con l'anternino, perché cambierà tutto sulle criptovalute e potrebbe essere un'opportunità o no, ragazzi, perché da un certo punto di vista se questo grafico continua a salire, gli attuali prezzi delle cripto diventano una super opportunità. Se invece invertirà proprio nel prossimo anno, allora c'è molto rischio. Allora a quel punto, insomma, si può fare la mia preferita strategia sui portafogli cripto che ho spiegato nel modulo che si chiama il Pindol Intermittente, quindi la BHI, che è molto interessante e, insomma, applicare diverse questioni. Vabbè, non mi dilungo perché voglio farvi vedere questo grafico qui, un paio di minuti alla fine del video. Allora, questo è un grafico sulla trend di lungo periodo di Bitcoin con la media mobile a 200 periodi, che è la media che utilizzano gli istituzionali. La stessa grafico trovate poi anche su questo articolo che l'hanno citato, mi pare, ecco qui. Qui, vedete, c'è la differenza tra la media mobile a 200 periodi, però io ovviamente uso i miei grafici per mille motivi diversi. Allora, qui ragazzi c'è una questione temporale. Non voglio fare un'analisi alla dettaglio, però qui c'è una questione temporale. Vedete, dal punto di rottura della media a 200 fino all'eventuale minimo di un bear market nel precedente ciclo erano passati 278 giorni. Da qui, che è stato il vero break della media mobile a questa zona, sono 328 giorni. Cioè, in pratica, da un punto di vista temporale, noi siamo da tanto tempo sotto la media mobile a 200 periodi. Quindi questo è un bear market che si è distribuito molto bene e in maniera molto lunga anche in raffronto ai precedenti. Potrebbe essere anche che i mercati abbiano un po' voglia di recuperare un pochino avvicinandosi a questa media a 200 periodi che, attenzione, può avvenire questa cosa in due modi. O i mercati salgono a bomba subito, oppure semplicemente stanno fermi fino a quando la media non si avvicina. Quindi, attenzione, che qui, se non sapete leggere i dati, poi vi confondete su queste cose. E quindi preciso questa cosa qui, ragazzi. Nel 2013, invece, che è il bear market molto più simile a questo qui, ci sono due modi di vedere questo grafico. Perché se noi vediamo dal punto in cui è stato breccato la media a 200, abbiamo due zone di minimo. Uno, vedete, a 2,90, l'altro invece molto più lungo perché il ciclo, questo ciclo di Bitcoin ha fatto una specie di doppio minimo con un ciclo quasi, cioè molto breve, una specie, vedete, di semestrale da 200 giorni che ha chiuso poi in doppio minimo. C'è anche chi dice però che il vero, vero, vero brecc di questa media è da questa zona qui, ragazzi. Perché? Perché questo è il primo brecc della media e il successivo rimbalzo che solitamente il mercato fa sempre. Anche nel 2018 l'aveva fatto, febbraio 2018 e poi successivo rimbalzo. Quindi touch della media, brecc e rimbalzo. Qui stessa cosa, brecc della media e rimbalzo. Quindi il vero brecc è quello dopo, in realtà, sono atteggiamenti non uguali ma non vi aspettate di trovare le stesse cose su una struttura come Bitcoin di questo tipo, vedete, però l'atteggiamento e il rimbalzo dalla media e il tentativo di fare un nuovo massimo è avvenuto in tutti questi punti, anche qui è avvenuto in maniera molto più debole ma parlavamo anche di mercati diversi, non c'erano gli istituzionali di ora, insomma, non c'era questa fomo sui mercati cripto, eccetera. Quindi se così fosse, anche in questo caso ci indica, vedete, che è una struttura di vero brecc che dovrebbe essere considerato qui sull'ultimo è 400 giorni, sul primo minimo invece è praticamente andato subito 200 giorni. Se poi andiamo in una zona mediana, insomma, ci rendiamo conto che tra i 320-350 giorni i prezzi sotto la media mobile sono sufficienti. C'è anche da dire però che questa zona, vedete, è stata totalmente di rimbalzo per 200 giorni, poi ha fatto un crash in pochissimo tempo e vi ripeto ragazzi, Bitcoin non era grosso così, quindi questi tipi di ribassi con un doppio minimo erano oscillazioni che si facevano con un soffio d'aria perché bastava un mega ordine di 1-2 milioni e buttava giù tutto perché la market cap di Bitcoin era bassissima. Quindi questo dovete, cioè bisogna, quando si analizzano questi dati, bisogna valutarla questa cosa qui. Cioè oggi probabilmente questo minimo non esisterebbe, esisterebbe una cosa del genere perché semplicemente non c'è magari la possibilità di farlo crollare così tanto in quanto semplicemente ha più market cap, quindi è più una cosa naturale, no? Non è che qui non abbia fatto poi la struttura, però vedete, qui poi ci fu proprio un'anomalia tecnica perché questa fase di rialzista fu molto più importante, no, di qua, perché insomma venivamo da un altro tipo di sistema. Infatti se qui non ci fosse stata la questione Covid probabilmente avremmo visto questa struttura fare in questo modo, ragazzi, no? Quindi decisamente. Allora, a conclusioni fatte su questo grafico, secondo me è interessantissimo andare a notare come la distanza fra la media mobile è a 200 periodi e il prezzo abbia anche decelerato. Cioè il prezzo fa nuovi minimi ma la distanza non è la stessa. Perché per esempio, vedete, tra questo ultimo crash finale e la sua media mobile, quando è avvenuto il crash, c'era una distanza abnorme, ve la faccio vedere. Allora, se io mi metto qui, mi posiziono, su questo nuovo minimo avevamo il 56% di distanza. Se io vado a vedere l'ultimo crash che è avvenuto qui e mi posiziono, vedete che la distanza è del 32%. Intanto, valutando le percentuali, non c'è differenza fra un prezzo di bitcoin a 40, 100 mila, 200 milioni o 11 dollari. Non c'è nessuna differenza perché stiamo valutando le percentuali. Quello che è il dato che ci dice questo tipo di analisi a braccio, qualitativa, non quantitativa, perché l'abbiamo fatta così, però è interessante l'informazione, che il trend ribassista sta diminuendo la sua intensità. Quindi, nonostante, io vi ho analizzato anche il crash, comunque, di FTX, che è stato un disastro nelle cripto, la distanza, quindi la fase ribassista di bitcoin verso la sua media mobile a 200 periodi, non è stata quella precedente, perché si è ridotta l'intensità ribassista di 20 punti percentuali, ragazzi. Questo è molto rilevante. Qualcuno di voi dirà, ah ma sì, perché siamo scesi tanto. Vi ripeto, è un'analisi percentuale. Perciò questa cosa non cambia niente, perché il punto di partenza è più basso, quindi è un'analisi percentuale. I dati si possono tranquillamente andare a confrontare, perché stiamo confrontando patate con patate. Va bene, detto questo, ho finito. Fatevi sapere anche voi se, secondo voi, il bear market inizia a scricchiolare, no? Ad avere poca linfa. Domani dopo domani vediamo che fa bitcoin, potrebbe tentare l'aggancio della famosa resistenza a 17 seg, che è la più importante. Se rompe quella, secondo me può salire in maniera più discreta, quindi avvicinarsi ai 18-19 mila dollari. Se non lo fa, rally di Natale finisce qui, ci mettiamo il cappello e ci mangiamo un pandoro in più per sopportare questa cosa. Ciao ragazzi!